ma ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale oggi abbiamo con noi la scarpa da trekking di decathlon più economica in assoluto abbiamo una scarpa ragazzi che fa veramente discutere tanto un sacco di persone nel bene e nel male parto dal male perché questa scarpa innanzitutto costa pochissime per tante persone l'idea che questa scarpa possa costare solamente 18 euro è quasi un'offesa al mondo dell'escursionismo e per tanti altri invece è un pregio l'idea di poter approcciare al mondo delle escursioni con una scarpa che ti permette di iniziare a camminare senza andare a comprare una scarpa tecnica esagerata che magari sarà spendere 100 euro o anche 50 euro per chi magari vuole proprio approcciare capire se il mondo dell'escursionismo può piacere o meno questa qui è la nh 100 alta ho scelto quella alta ragazzi perché per me anche nel mondo dell'escursionismo semplice basico in natura su sentieri battuti per me ragazzi la scarpa alta vince sempre perché perché dà più sostegno perché in ogni modo ti dà più sicurezza nella camminata quindi ragazzi anche se questa scarpa è semplice esiste il modello anche basso che costa 14 euro io ragazzi vi dico comprate comunque quella alta che vi permette di avere più sicurezza alla caviglia andiamo avanti ora la andiamo a presentare poi dopo ragazzi andremo a provarla parliamo della scarpa ovviamente sintetica abbiamo delle cuciture che comunque sono molto evidenti sono resistenti la scarpa comunque è assemblata bene anche per il costo irrisorio che ha abbiamo un primo parapietre qua davanti più che un parapietre diciamo è sì un sostegno nella parte frontale comunque va a schermare no la possibilità di andare a ruttare pietre e cose varie abbiamo una suola con tassello da 3,5 mm tpr cioè ragazzi la classica suola del 99 per cento delle scarpe che tutti i giorni utilizziamo una suola semplice ma comunque robusta con questo disegno che poi dopo andiamo a vedere nel test come si comporta però devo dire che a primo impatto mi piace l'idea di avere no questa parte qua che va ad alzarsi con questo triangolo dove praticamente si va a fare a piglio con la parte forte del piede una scarpa molto molto morbida che dopo andremo a vedere se è un bene o un male se ci dà quella quella quel sostegno quando andiamo in salita no dove la scarpa deve sì dare comfort con la torsione ma deve anche rimanere comunque rigida andremo a scoprire poi come si comporta sui sentieri abbiamo poi per quanto riguarda il comfort sul tallone 6 mm di ammortizzamento che non lo so sono curioso di capire se nel percorso che andremo a fare dopo riesce a gestire l'aspirità del terreno oppure no chissà oppure anche più che l'aspirità del terreno se riesce a gestire gli 8 km circa che andremo a fare dopo sul sentiero una scarpa che a primo impatto ovviamente non è bella non è bellissima è una scarpa molto semplice nera anzi la reputo veramente veramente basica sotto ogni aspetto anche estetico anzi per molti questa è una scarpa che oh mio dio non posso tenerla ai piedi invece ragazzi sono convinto che vi stupirà che poi andiamo a centrare una fascia di persone che fondamentalmente anche all'iscursionista si è bello magari avere una scarpa che sia alla vista anche accattivante però ragazzi per iniziare questa è una scarpa per iniziare è perfetta comunque con questo video andiamo a sfatare il mito per quale sentiero adatta questa scarpa e andremo a capire appunto dove andare a utilizzare ovviamente non è una scarpa per andarci sul monte everest non è una scarpa per andare ad inerpicarci è una scarpa che va utilizzata con un clima asciutto quindi secondo me con questo tassello possiamo utilizzarla anche su un terreno bagnato quindi dove è già piovuto però non andare a camminarci sotto la pioggia perché non è impermeabile e soprattutto su roccette non lo so andrebbe provata poi sotto la pioggia o neanche sotto la pioggia perché questa è una scarpa per pioggia una scarpa progettata per sentieri naturalistici semplici quindi tendenzialmente in piano in falsa piana con piccole colline con sentieri comunque tutto sommato battuti non asfalto però alla fine della fiera è una scarpa che ci dà la possibilità di approcciarci al mondo del trekking dell'hiking della natura basta adesso con le chiacchiere andiamo sul sentiero farò il sentiero che da Cala Violina cioè scusate che dal puntone zona di Follonica non so se la conoscete porterà a Cala Violina una spiaggia bellissima e saranno circa 4 chilometri di escursione ad andare e 4 a tornare quindi 8 totali andiamo a vedere come si comporterà questa scarpa ma adesso basta con le chiacchiere e si inizia a camminare forza andiamo sul sentiero bene ragazzi eccoci sul sentiero per andare a fare un test profondo di queste NH100 alte faremo il sentiero che porta a Cala Violina però non il classico con il parcheggio di Bito ma siamo partiti dal puntone per chi non è dalla zona di Grosseto Follonica basterà che mettete sulla mappa Cala Felice è un locale della zona superarlo e poi troverete le macchine parcheggiate sulla destra lasciate le macchine lì prendete la sbarra superate la sbarra che appunto va a chiudere la via e poi basterà che camminate trovate i cartelli per Cala Violina che sono circa 3 sono circa 4 chilometri 3,8 chilometri andata e poi c'è ritorno quindi per 8 chilometri circa totali dove andremo a testare queste NH100 vi faccio vedere il sentiero sentiero ovviamente molto molto semplice quello che per il quale sono state create queste scarpe non come quelle di Mara che sono le MH100 che si meriterebbero decisamente un palcoscenico migliore ma oggi ci accompagnano accompagnano le nostre piccole NH100 in questo sentiero per andare a capire anche quali sono le differenze vedremo un po' anche dopo la differenza di struttura delle scarpe siamo quasi a un chilometro ragazzi ma questi sentieri di mare ci regalano dei panorami stupendi sul golfo toscano bellissimo allora ragazzi primo check della NH100 si sta comportando veramente veramente bene sono molto soddisfatto ho aspettato a farlo volevo arrivare un po' più avanti siamo a un chilometro e 350 metri ma per adesso un sentiero così semplice veramente sono scarpe ottime sono anche molto comode l'ammortizzazione sul talone funziona veramente bene dopo lo testerò in caso magari utilizzando qualche roccia per andare a sentire come va ad ammortizzare in caso qualche asperità un po' più accentuata però per adesso nel primo chilometro o chilometro e mezzo veramente ottimo sembra di avere una scarpa che è da sempre che ce l'ho al piede ottimo stiamo facendo ragazzi una discesa con delle asperità comunque abbastanza accentuate devo dire che si comportano molto bene il fatto che sono alte conferisce comunque stabilità al piede e questo è ottimo come vi dico sempre ragazzi la scarpa alta vince 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 stravince sempre su quella bassa anche perché quando andiamo a camminare su ciottoli in questo modo la scarpa rimanendo più rigida da veramente molta più sicurezza prima abbiamo fatto anche una salita e devo dire che le scarpe si sono comportate bene sono sia sia morbide ma riescono a mantenere anche una rigidità che ti permette di andare a salire in tranquillità senza mai avere la percezione che si scivoli ovviamente qui stiamo mettendo veramente a loro agio queste scarpe andando ad utilizzare per quello che sono state progettate cala violina siamo quasi arrivati ebbene ragazzi dopo 4 chilometri e 20 metri e un'ora e 4 minuti di cammino siamo arrivati a cala violina le scarpe si sono comportate davvero davvero bene adesso ci vediamo un po' il panorama e poi facciamo qualche video va bene ebbene ragazzi dopo esserci goduti il sole di questa stupenda spiaggia di cala violina invece di fare vedere adesso riprese con il drone qua c'ero già venuto dove ho portato proprio il sentiero per raggiungere cala violina più nel dettaglio senza ovviamente essere incentrato su un articolo o su un prodotto se volete vedere appunto dei video spettacolari di questa stupenda spiaggia vi lascio il video qua o comunque lo trovate sul canale il video di cala violina un posto davvero magico una perla della maremma adesso rientriamo e poi finiamo il sentiero che comunque sono 4 chilometri quindi a tornare indietro saranno 8 e poi vi darò le conclusioni finali una volta tornati a casa di queste nh100 forza torniamo a casa e andiamo alle conclusioni finali del video ah ed eccoci di nuovo a casa ragazzi l'escursione è andata bene sono molto molto contento le nh100 si sono comportati bene hanno sicuramente rispettato le aspettative perché le abbiamo messe nella migliore condizione possibile per offrirci una prestazione che sia all'altezza che sia degna di nota per far sì che la scarpa non si faccia sentire cioè ci permetta di camminare come se appunto fossimo a piedi scalzi sul tappeto di casa e questo è ottimo no perché andare ad utilizzare una scarpa nel contesto giusto ragazzi fa la differenza in un modo esagerato il contesto giusto ragazzi non è i 10 12 20 40 100 euro 200 euro 300 euro il milione di euro il contesto giusto ragazzi è saper distinguere una scarpa e capire leggendo quello che ci viene detto in descrizione quello che troviamo anche con chi come me fa video di questo genere andare a capire qual è l'utilizzo di queste scarpe in modo da non fare un utilizzo sbagliato non trovarsi male e poi dire questa scarpa non va bene perché fa schifo perché costa 18 euro ovvio che se mi ci andate a fare un sentiero così sotto la pioggia cosa vi aspettate questa è una scarpa come abbiamo visto nel video per sentieri semplici anche abbastanza lunghi quindi che sicuramente sforano anche 10 chilometri perché dopo 8 chilometri ragazzi non avevo minimamente dolore ai piedi la suola si comporta benissimo è veramente morbida quindi devo dire la verità mi hanno stupito più del dovuto e questa scarpa la terrò e la userò come scarpa di ripiego come seconda scarpa anzi diciamo terza scarpa quando andrò a fare sentieri come quello di oggi e non voglio utilizzare le mie perché comunque lo utilizzo ragazzi della scarpa va a consumarle quindi utilizzerò questa scarpa come seconda terza scelta in base ai sentieri che andrò a fare mettendola sempre come vi dico nella posizione migliore per renderci indietro una prestazione degna di nota se volete acquistare ragazzi questa scarpa potete acquistarla dal link che trovate in descrizione così potrete anche aiutare me e niente che mi resta di dirvi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto continuate a seguirmi iscrivetevi al canale mettete mi piace ci vediamo al prossimo video un saluto dal vostro Tom Search ciao